It's a victory Senti Devo rifare i ritagli Per forza Amici ci vedrete quanto prima Facciamo così Pluff Non ti piace? Ah ho capito perché non si vede Perché sono un cretino E questo è più che vero Ora si vede incredibile Buonasera a tutti i nostri cari amici Ciao io sono Marco Ciao lui è Marco Lui è Cercello Lui quello qui sotto Lui Guarda cosa sa fare Marco Guarda cosa sa fare Dado Esatto Ciao ragazzi Ciao benvenuti Allora prendo un coltello e mi ammazzo Stamattina abbiamo detto Dado ha detto perché non fare Dado Leggi cosa ha scritto Airo Cazzo Me l'ho scordato Oddio Aspetta 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 Mutiamoci tutti qua Sì Ma posso mutare solamente Te stesso Ma io ero è mutato qua Ma prende per il culo Scusate Ma io me l'ho scordato Airo Scusate Cari amici c'è anche Airo stasera Allora perché noi ad aereo avevamo detto Se tu vieni E ci sei Dato che comunque facciamo già i ritagli Ti mettiamo su Ci mettiamo su tiesa Allora stiamo facendo cosa ha detto Per ovviare intanto all'assenza di Airo Farò una cosa Mettici un piede Faccio 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 Facciamo Tortura Tortura della minchia Facciamo una live Dove parleremo Del Cioè inizialmente il progetto User disconnected from your channel Come? Chi è stato? È entrato Quella testa di merda di Luca Ma io sono su un canale protetto ragazzi Vaffanculo Ma ci può entrare lo stesso Non se gli togli i diritti Ok faccio No non si è sentito tranquillo Anzi no Ci metto quest'altro aspetto Oh ok Comunque Che diceva Marco stavi dicendo? Stavo dicendo quindi Abbiamo riuscito di rifare Cioè inizialmente Live doveva vertere E vertere almeno per i primi minuti Su L'argomento Sony Sony Microsoft no? Sì E poi risponderemo Alle domande che ci avete fatto Ok Magari ci farete anche qui Sony Microsoft è il cross platform Con il caso Con il caso Dontress Che cade proprio a fagiolo In questo periodo Ciao Jack Un piccione ciccione Piccione ciccione Hai messo il piccione Sì Mi sembra più che giusto Ho messo la mia pro pic di Discord Sì Bravo bravo Oh allora Penso a Juselam Che io ho i piccioni Che mi stanno uovando Nel balcone Che ti stanno facendo scusa? Uovano Ogni giorno portano Vuose del verbo uovare Sì Uovare uova Uovano Ragazzi guardate Sono tornato a casa tardi Non ho arrivato Fra 20 i tuoi views Ho superato la soia Deci mila Mamma mia Giustissimi Trampare con i soldi veri Eh sì Allora I soldi real In pratica Di che dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare di Sony e Microsoft Che da Cioè con Annetto Ormai stanno in trattativa Tra di loro Sì Sempre ti giuro Non è una calzata Ragazzi No è vero Allora i volumi Dorebbero andare bene Sto vedendo ora I livelli Dorebbero andare bene Ah i miei occhi Quindi Allora Intanto voi Aspetta Intanto che parliamo Voi potete andare Sul nostro canale Instagram E farci delle domande Farci delle domande Anche nell'ultimo momento Nelle storie Mi raccomando Nella storia C'è il box Domanda E voi fate Una Domanda Wow Allora quindi Si diceva Salute Sì Scusa Di L'evento Google L'evento Sì Google Che introduce La sua piattaforma Di streaming Tra l'altro Ne abbiamo parlato Anche Nella scorsa No Non so se Nella scorsa Nella scorsa Comunque Se volete Cercare Sta Nelle vecchie Anzi Sta sul canale YouTube Su YouTube Che Vi mando Dopo le leggiamo Jack Dopo le leggiamo Quelle domande Jack Poi se ne hai altre Le fai comunque Ne altre Puoi tranquillamente Farle E allora E niente Quindi La scorsa volta Sony e Microsoft Sì Sì La scorsa volta Avevo detto Proprio questo Che La gente diceva La gente che diceva Console Sono morte Sony Microsoft Nintendo Non sanno più Che cazzo fare Invece Lo sanno benissimo Cosa fare Più o meno Adesso si pensa Che il futuro Del gaming Verterà Proprio Su Anche Anche se Anche se Secondo me Non è vero Mai Però Questo che è Quello che si Pensa È probabile Che Buona Parte Della Infrastruttura Gaming Necessiti Un potenziamento Importante E il Crowd gaming È sicuramente Una feature Fondamentale Sì ma Secondo me Più o meno A livello mondiale Le major Hanno Un proprio Servizio E anche un rental Un on demand Che funziona Sul cloud gaming Quindi Playstation No Project Cloud Che Stavano Su Prodicc Cloud E Dimentichiamo che Anche nintendo Una roba leggera In giappone In giappone nintendo Una roba leggera Per esempio Per resident evil Ah si Lo giochi in cloud Perché La consola Importante Quando poi Un colosso Come google Che Di tecnologia Iot E di tecnologia Appunto sul cloud Ne sanno A pacchi Che Invece Di sviluppare Tecnologie Connect Con diversi Tirare su Delle infrastrutture In maniera indipendente Per quanto Concerne Sia Sia Che questo è importante Ed è passato Molto in secondo piano Per quanto riguarda Le ricerche Sull'intelligenza Artificiale È appunto L'utilizzo Di una tecnologia Condivisa Per il cloud gaming Che è la tecnologia Di microsoft azure Perché ricordiamo Che microsoft Rispetto sony Ha Beh Conta su un server Molto più potente Ha più Ha una Ha un'infrastruttura migliore Ha una conoscenza maggiore Di quelle che può essere Tutto l'iot E tutto il Sì perché Azure non viene solo usato Per il cloud gaming Viene usato per il cloud in generale Cioè nell'ambito 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 della programmazione Viene usato azure Non è solo gaming Esatto Per questo potrebbe rientrare Anche a Nintendo Nella cosa Però ci sono delle cose Non so se avete letto Ci sono delle notizie Dell'ultima ora oggi Che non è ancora finalizzato L'accordo Non è ancora definitivo L'accordo Si sta parlando Io non riesco a pulire Gli stocchiari E comunque si tratta Comunque di una dichiarazione Di intenti Quella di collaborare Che è comunque Sì Io quello che so Il collab Tra più che altro Sul fatto che appunto La microsoft Mette Dalla sua Il server Mentre la sony Avrà dalla sua I giochi Sì cioè Sony Di ciccio gamer Questa cosa Cioè sony praticamente Mette a disposizione La sua infrastruttura Stamattina questa live Non mi rompere le palle Cioè Cioè Allora Attenzione Viene utilizzata Una tecnologia condivisa Non si sta parlando Di Non si sta parlando Di Perché Le infrastrutture Ognuno avrà la propria Infrastruttura server Perché ognuno dovrà Metterci i propri server Altrimenti non ha senso Maremmo Utilizzano Una stessa Una stessa tecnologia Che è la tecnologia Di Azure Quindi tu avrai Dei server Dei server Praticamente Fratelli E che quindi possono Condividendo la struttura Creano una rete Più stabile E più forte Poi bisogna vedere Se con Il caricamento Di tutto Il materiale Perché questa roba qua La vedremo Con PS5 Scarlett Alla fin fine Ma Secondo me neanche Dall'inizio Con PS5 Scarlett Si 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 vedrà lì Perché La vedo difficile Che già da adesso Vedremo Una modifica Per quello che riguarda I servizi cloud E tutto il resto Per quanto che concerne Playstation e Xbox Rimarrà Indipendente Quindi Certo Però Non è una fusione Come quella Che avevano detto Che facevano Sony E Microsoft E Nintendo Perché Nintendo Usava Andre sarebbe andato Utilizzare L'Xbox Live Per il profil Però Si può Subito andare A vedere Una cosa Che La prima cosa Che è stato Il cross platforming Il cross gaming Che sta iniziando A prendere piede In maniera importante Escludendo Escludendo Minchiate Tipo Fortnite No Adesso si comincia Con due Però Parlando di Fortnite È importante Perché la Epic È l'unica per ora Che sta facendo Questa cosa Se vedi Fortnite Vedi Dauntless Vedi Rocket Che sta acquistando Da Epic Io metto Le virgolette Che sta investendo Perché la Epic Sta gestendo Sta gestendo Malissimo I terzi Che collaborano Con loro stessi Perché Basta vedere Dontress Non ha avuto Ha avuto Tre anni Di beta Perché erano Sotto la Erano indipendenti Passati alla Epic Sono usciti Direttamente Con cross platforming E quindi Sono crashati Completamente Da due giorni Ingiocabile Su PS4 One E PC E su PS4 One Non hanno fatto Neanche Un alpha release Non c'è stato Un beta test Non c'è stato Uno stress test Ma si è visto Si è visto Una mancata Di stress test Si si è visto E quindi Cioè E l'Epic Dov'è dietro Tutto questo L'Epic Si fa i cazzi Su L'Epic Ha messo In mezzo L'infrastruttura Sua Il suo sistema Di cross platform L'infrastruttura L'infrastruttura Sua Fino a un certo punto Perché alla fin I server Non l'ha messo In mezzo Evidentemente No Ragazzi Ma l'Epic Non li ha Tutti sti server Ma basta vedere Il fatto che Avrebbe soldi Per comprarli Sono due giorni Che non riesce Ma basta vedere Il fatto che Stesso fortnite Stesso fortnite I content creator Quelli un po' più Importanti di fortnite Mica riescono Mica fanno le partite private Tutte le volte Che vogliono loro E l'Epic Che gli concede Dei server Questo dire Che l'Epic Chiude Dei server Al matchmaking Normale E Oddio Io spero Li abbia dedicati Solo per questa Funzione qua Perché Sai come dici Tena Cosa 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 Se tu hai Una infrastruttura Di questo Cioè Quindi tu hai Dei server Che puoi dedicare A questa cosa qua Perché non li lasci Permanentemente A disposizione così Ma invece Gli dai degli slot Tra virgolette Mensili Bimestrali Questo vuol dire Che Hai pochi server Ne hanno pochi In questo senso Si Però Per gli incassi Che hanno fatto Potrebbero averli Sti server E' questo Che non mi spiego Ma saprai la cosa Che tu Però Cioè In questo modo qua Questo è un free to play Che Don'tress Ci sarà Il boom adesso E poi Andrà Andrà scemando Ovviamente Giocatori Ovviamente Ovviamente Ma se tu Nel periodo di boom Riesci a giocare Il day one Stop E poi è strana Anche sta cosa Il day one Fa tutto bene Non è normale Quindi alla fin fine Chiudendo un attimo Lo scende Questo discorso Perché è un discorso Che siamo veramente Agli albori Perché se ci pensiamo In cross platforming Di giochi di alto livello Ce ne sono quattro Sono minecraft Rocket League Fortnite E E comunque Aspetta perché Rocket League Adesso è cross platforming Serio Ma fino a Qualche secolo fa Era cross platforming Vinto E comunque È solamente Play PC Play PC Play PC Xbox E PC Switch E PC Switch Va bene Perché devi Perché devi svilupparla La tecnologia Devi far collaborare Dai netcode Dando un livello Di sicurezza Importante Sì no Il problema È prima di Rocket League Comunque sì Era che Sony Non voleva collaborare Perché loro L'aggiornamento pronto Con i cross platforming Puro Ce l'avevano da anni E vabbè Ma lì poi bisogna Far discorsi di marketing E roba di cui noi Non possiamo parlare Che sia un bordello Sì Comunque Alla fin fine Io chiudo Chiudo su questa parte qua Poi lascio parlare Gli altri Perché Magari Cominciamo a leggere le domande Allora Ogni passaggio Di generazione videoludica Ha portato una rivoluzione Ad esempio Dal Super Nintendo La playstation È stato I poligoni La PS1 La PS2 Ha portato Poligoni ancora più dense No no L'incremento grafico A livello veramente Veramente alto La PS2 La PS3 Ha portato L'online La PS3 La PS4 Ha portato Lo share Perché Il game streaming È salito Un botto Così Da PS4 A PS5 Saranno due Saranno due Il cross platforming Si spera Perché Si spera Si spera Se non sono stupidi Ma Da Sony Ci stanno puntando E stanno facendo bene Il VR Si 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 È l'unica tra le big Di console Che sta puntando Sul piano Si perché a Microsoft Non ho visto nulla Microsoft Ha il HoloLens Ma è un'altra cosa Nintendo Ha il cazzo Di cartone Vabbè il cazzo Di cartone Però è carino Si ma È fine Se stesso Non ci giochi Più di 10 minuti Ma è giusto così Perché non ha la potenza Per fare VR Non gli interessa Ok E alla pari del VR Per telefono Per guardare i porn Si si Ce l'ho lì Guarda Il VR Secondo me È il futuro Cioè forza Devi Qual è Qual è Qual è Qual è Qual è Qual è la grande Ciao Darko La grande prerogativa Del videogioco È l'immersione Esatto L'immersività Ormai Allora tu come lo fai Lo fai attraverso Rivoluzioni di gameplay E quindi ti cito L'uscita di Half-Life Poi lo fai Rivoluzionando I contro Rivoluzionando I controller Con i controller Di movimento Quindi ti cito la Wii Che poi abbia funzionato Meno E un altro paio di mani Wii ha funzionato Fino a provare E lui ha venduto Più di 100 milioni Di unità Ma io parlo È una merda L'italia L'immersività Penso che neanche Il play move Aviva funzionato Prima del piano Prima del giorno Poi Poi cosa ci sta C'è stato Il miglioramento grafico Che cerca Ti dà una maggiore Immersività E poi in ultimo Il VR Che penso sia Quasi quello definitivo Poi ci sarebbe La fantascienza Che sarebbe Il nerd gear C'è Sordando online Con il nerd gear Però Nelle grandi case Sono Sony Valve E a quanto per Facebook Ma sta leggendo Veramente torfei Sì perché Facebook Credo fosse Giuseppe Mi chiedi perché Leggi Giuseppe Pure questa Non trovo Di maniche Però comunque Dai iniziamo a leggere le domande Cominciamo a leggere le domande Aspetta Aero 2 ad una cosa Sì dovevo dire Io a giocare con il VR Non mi ci vedo Cioè preferirei comunque giocare A un gioco Normalmente Su un Ehm Ehm E' questione d'abitudine Allora io il VR L'ho provato Ho provato giocandoci a Skyrim Cioè Grafiche di Skyrim L'hai provato comunque quanto? Un quarto d'ora anche te? No L'ho provato un'oretta Vabbè Sì Che comunque però Considera giocandoci a Skyrim Con la fisica di Skyrim Ovviamente mi sembrava una certa Di camminare a 100 Con una montagna di appendenza così Sì vabbè perché quello non è Un gioco creato per il VR Che l'ho uscito 10 anni fa Infatti tipo io ho provato Io ho provato alla Games Week Di due anni fa Gran Turismo Sport Col VR Io ho provato Ok Però Cioè ad esempio Io sono dell'opinione Che alcuni giochi Possono essere giocati in VR Tranquillamente Tipo un gioco di Di simulazione di auto Sarebbe bellissimo in VR Però non giocherei per dire A FIFA in VR Non lo farei male Ma perché tipo come non c'è Ma secondo me E' anche quello lì E' questione d'abitudine Perché se tu Prendi FIFA Ti puoi guardare Se tu prendi Aspetta aspetta Se tu prendi FIFA Ti puoi guardare intorno Vedi Tipo che ne so Guarda a sinistra Che giocatore c'è libero in difesa Che lo vedo Il giocatore c'è libero Un attacco alla destra Dove non Invece guardare la mappa Del cazzo in basso Tu ti guardi intorno Sai quanto cazzo è bello E' questione d'abitudine Fidati Penso anche Poi vedremo Oppure anche qualcosa Che non so come Come si chiama For Honor Pensate che Fica da For Honor Con il VR Scusate In prima persona Sì Però Ne stiamo parlando Di VR Con controller dedicato O VR con controller Tradizionale Dedicato Dedicato Sì Magari Non penso Faccia molta differenza In questo discorso Allora Per immersività Sì Perché Provo a pensare Di un For Honor Provo a pensare Di darlo Ti il fendente Invece di prendere Analogico Però non senti Il peso dell'arma Beh bisogna Ovviamente Non penso Che possiamo fare Un dispositivo Che aumenta La sua mappa Io ho il computer Che non mi gira Don't less Voglio parlare De VR Ovviamente Ma anch'io Anch'io Non so Non so Non si può Sembra Non si può Allora Era un platformino Che tu guardavi Dall'alto Il personaggio E la mappa Non lo puoi prendere Come esempio Per i VR Perché non Non c'è Immersività Quanto cazzo vorrei farlo Io Vorrei Cacciarla Allora Vorrei farlo La coppia di acquisto Cloche e VR Soltanto per i scombatti O la farei Minchia La cosa Comunque Girare in telecamera A me dava Uno sbratto All'inizio Tanto Provo Scendo Stessa maniera Me la dava Sea of Thieves Su una nave Il mare Mi faceva venire Il mal di mare Perché comunque A me è andata Da abbastanza Fossilio al mare Ma Pina prima Mi sono abituato E lì mi è passato Come va Conta che io Su rocket Ancora ho paura Quando arriva la palla In faccia Chiudo Ti faccio vedere Una clip Poi Se mi ricavi Contro l'evoluzione Dell'uomo Sì Vogliamo leggerle Allora Facciamo dal basso Un certo Decafka 91 Decafka 91 Alias Marzabane Dove sta da me Da me sta tipo qua Vero Sono sopra di te No Decafka Ah L'altro L'altro verso Di qua Sì Ok Questo tipo qui Ci chiede Miglior trama giocata E ci devo pensare In realtà Cazzo Cazzo Il primo Xenoblade Perché quello Mi ha preso di più Miglior trama giocata Anche per l'atmosfera Anche per l'atmosfera È tutto Io dico due titoli Dico Metal Gear Solid 3 E Ace Combat 5 Squadron Leader Che entrambi Verranno portati in live Quindi Dai Ti raccomando Miglior trama giocata Restate sintonizzati Beh Rocket League Questa è la seguità Con cui risponderemo Alle domande No Io so Ci devo Evil Dice Evil Dice Luca Ma Luca Che cazzo Amici vi ricordo Che potete andare su Instagram A farci domande A farci altre domande Dai dai Prossima domanda Allora Allora La prossima domanda è Airu non risponde Quindi Io non mi sono riuscito un attimo pensando In caso rispondo dopo Riscrivete Instagram Cazzo Cazzo C'è la tastiera rotta Fatta? Dopo così Mi riscrivete in più Allora Mentre io ci penso Taichi Ci chiede Taichi Che non è presente Però lo salutiamo Perché è bello E simpatico Ci chiede Qual è il genere videoludico Preferito Qual è il nostro genere videoludico preferito RPG Probabilmente si RPG Con Tra RPG e action RPG Sì Anche gioie RPG Non Sono per me Invece il titolo preferito di questo Di questo genere Ve lo chiedo io Fai una fantasy 12 Sì Sono l'unico FPS Infatti Luca tu Tu non ne capisci il cazzo Ma se dammi il cugno No dirvi Mi rischia di essere enormi Ma ora come ora Il mio preferito tra questi qui è Ho perso il cazzo Aspetta Ho vinto il pugno Insomma Il titolo preferito di questo Sembrava di essere molto normi Ma è un gioco che ho giocato da poco E mi ha preso Talmente tanto Che l'ho finita in pochissimo Eh Tu lo conosci molto bene Perché è Zelda Breath of the Wild Guarda Ti dico Ti dico la stessa cosa Anche se è più da Un action adventure Perché è un action RPG Anche meccanica RPG Breath of the Wild Ora Potevo dire tranquillamente La statistica sull'equipaggiamento È molto basica È un action adventure Breath of the Wild Però vabbè Comunque Allora Eh Vabbè se devo dire un RPG puro Ti dico Skyrim Che sono bene Potevi anche dirlo Che sono bene È un JRPG Più che un RPG puro Non è Breath of the Wild Che meraviglia Eh sì Ma più che altro Sono stati momenti In cui Mi sentivo davvero Tanto immerso nell'avventura Tant'è che dopo Quando ad esempio dovevo andare da Fare il primo Quando ho fatto il primo Spostamento enorme Che sono Proprio all'inizio Che quando esci Dalla Dalla cinta Di mura E cominci la prima camminata Verso il primo obiettivo È talmente tanta Tant'è tanto lunga La camminata Che mi sembra veramente Di essere Io stesso affaticato Come Che è veramente Tanto immersione Non smetterò mai di dirlo È il gioco perfetto Quello È veramente Veramente Ha il risposto No Monster Hunter Ok Qualsiasi Dico Allora Alla prossima domanda Non diciamo il nome completo Per breve Si mi diciamo Un certo Artyom Un certo Arfe F Non che Fabio A Ci chiede Let's for dead 3 Possibile Allora Lo annunciarono 5-6 anni fa Ma io penso Che non vedremo mai Né 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 Valve si sta concentrando tantissimo Su Steam E dagli torti Si sta concentrando adesso Sul VR E dagli torti Per quel Forse Half-Life 3 Sarà il titolo Da war Aspè Sì E L'F4D Quando è fu annunciato Tipo 5 anni fa 6 anni fa Anche di più 7 anni fa To Quindi Ora come ora Aiuto Perché le ha mandato Le ha mandato le foto dei piedi A Airo Ad Airo Ad Airo E Insomma Essendo stato annunciato Così tanto presto Per farlo uscire adesso Dobbbero rifarlo da zero Perché Ho capito Valve Ti piace tanto Il Source Engine Ma il Source Engine Nel 2019 Fa cacare al calzo Capisci Allora Alla ventina di discorso È sempre quello Che la Valve Quando deve far uscire un titolo Deve rivoluzionare In qualche modo Half-Life L'ha fatto con l'immersività Half-Life 2 L'ha fatto con la Gravity Gun Half-Life 3 Lo farà col VR immersive Dice Half-Life 3 Quello che è più probabile Che esca Half-Life 3 Quindi Le 4 Dead 3 bocciano Voi altri che dite No forse c'era Fanno la Rangebox 3 Alla fine Usciranno Uscirà l'E4 Dead 3 Come uscirà Death 3 Dice Quei usciranno No Non usciranno Saranno Gli stessi giochi Migliorati Leggiorate graficamente per me invece per me invece vedremo solo Warfare 3 come titolo di line up magari per la dico forte metterà a terra gli standard degli action in war con il fatto che l'H4D mi sembra un gioco ancora molto giocato ma è ancora molto giocato e molto giocabile l'H4D3 invece Half-Life così come un portal l'H4D3 non penso portal in war lo vedo bene ma non penso lo svilupperanno penso che già portal 2 in war e vomiti come se oggi fossimo è vero ma sbaglio hanno fatto Marco Marco perché fare così quando puoi farlo così anche con l'accelerazione di 9,8 metri al secondo costante ma sbaglio hanno fatto hanno fatto anche lo spin off di portal no? davvero? si? devo dirlo a Davide aspetta lo cerco non penso fosse sviluppato da Valve ma hanno concesso i diritti per chi non sapesse chi è Davide che è una persona che nomino molto spesso è un mio mio è la persona con la quale ci scambiamo eccolo qua bridge constructor portal ma questo è ufficiale capito e quello è un browser game cosa vorrebbe dire dai andiamo avanti andiamo avanti la prossima domanda è un certo Simo Call che chiede? Simo Kova ma ti sono switch portate? detto ex ci tocano ormai solo portate switch solo portate allora si sa che stanno sviluppando quasi per certo ormai iroo il tuo microvelo sta morendo come? si sta si sta che stanno sviluppando quasi per certo una nuova versione di switch eh ma va a capire che vogliono si sa che una switch sarà solamente portatile può essere o una switch pro o una switch pro e lo vedo abbastanza improbabile no hanno detto che non sarà una switch pro invece hanno detto tante cose la nikei ha detto che sono due le versioni di switch altre hanno detto che sono una altre hanno detto che sono portatile allora la cosa la cosa che dico io se provi a fare una switch solo portatile una switch solo fissa solo fissa e cose del genere stai intrinsecamente dicendo che il tuo progetto di ibrido è un po' fallito no sto dicendo sto dicendo che serve no sto dicendo che serve variare il range di prezzo e non posso e che in questo momento e che in questo momento non posso abbassare di prezzo la switch normale per i genitori del cazzo diciamo no il 3D fa vedere il cancro agli occhi al mio figlio no il 2DS è per abbassare il prezzo perché tu oggi il 2DS lo trovi a 30 euro nuovo ti ricordi cosa stiamo parlando il 2DS che si ok ma anche te ai tempi lo trovavi ai tempi all'uscita lo trovavi a 150 euro in me ora dico nintendo in questo no adesso l'hanno fatto uguale a a quello il new 2DS XL è fighissimo a parte il new 2DS XL 2DS base 2DS base è una tavolta che se chiude ma secondo me funziona perché ergonomico è merda io mi ci trovo tu l'hai provato il 2DS ma se no ma io si è in mano meglio del cazzo te lo dico ho capito me devo mettermelo in tasca io mica le tasche di fantozzi ma in tasca il 3DS non ce lo metti uguale il 3DS normale io si ma lo rigli tutto ah ragazzino cazzo vede che devo mettermi in tasca dato portati non sai a parte che tornando tornando al discorso di prima che cosa significa poi poi mi intendo sbagli avrà i joycon non sono non saranno più estraibili questi sono tutti i rumor del cazzo ma non so quanto sono affidabili però fesce fesce un'altra un'altra console perché devi devi un po' devi faricare devi faricare il tuo mercato perché la console ti costa il 330 euro non te la compro non possono permettere tu ne metti una versione più più economica con meno funzioni a 200 euro e te la compri e prendi quella fetta di mercato che ancora non ti sei preso e ora vediamo ok giocandolo da fisso tra virgolette hai 60 fps più o meno no ce l'hai in alcuni giochi ce li hai in alcuni in alcuni giochi ce li hai però la cosa bella della switch non è tanto la parte fissa quanto la parte è portatile quindi diciamo diciamo che no diciamo che in molti lo usano molto più in portatile di quanto lo usano in fissa questo è vero però ci stanno i coglioni come a me che lo usano in portatile col controller pro si io questa è una cosa che farei come in molti ai tempi usavano il 3ds il 90% degli utenti del 3ds usavano senza il 3d perché dopo due ore di gioco tenivano gli occhi così e le palli però tipo io avevo il problema apposto tipo io ho giocato tutto carino off time in 3d perché la strada anch'io 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 però ecco questo questo switch secondo me uscirà una duplice versione prima uscita la versione economica poi uscita la versione pro vedremo vedremo allora un certo aero è uno che c'ha una propria conanime quindi non è che io faccio tanto ilon musk però dice aspettative per il 2020 e aspettative per la next gen abbiamo già detto prima per la next gen nessuna aspettate per il 2020 dead stranding dead stranding magari secondo episodio di quella fantasy 7 perché ho detto uscirono due episodi quindi uscirono nel 2019 all'inizio del 2020 io sono curiosi di rispondere a aspettative per il 2020 in realtà aspetta poi dopo di leggerla domanda di io per la next gen invece mi aspetto solo la cosa che aspetto sono i nuovi titoli first party perché l'unica cosa che seguo ormai è l'unica cosa che mi gasa i titoli first party sarò io pazzo andiamo avanti esatto Jack esatto allora Jack credo sia Jack quello che tenete di più quello che tenete di più allora abbiamo già detto la scorsa penso cosa abbiamo già detto la scorsa vabbè comunque lì non ci stava Donkey Kong Country 2 di The Kong's Quest è il gioco penso a cui tengo di più in assoluto allora per me invece è il gioco che mi ha introdotto a quella che è la mia saga preferita e quindi è Pokémon Oro Pokémon Oro anche per me perché quello mi ha introdotto non so dove si è strato qua il pugno quello mi ha introdotto anzi in alto Marco in alto di qua o di là di là anche io Pokémon Oro perché quello mi ha introdotto ai videogiochi a tre anni quindi sempre poco io ho seguito un gioco che mi ha introdotto ai videogiochi ma sono sapere qual è il mio avevo tre anni a me la Street Fighter 2 ma se a me era il gioco di Hercules per play 1 ho già ne avevo già pazzesco immaginati primo settembre del 1995 io che vado dal negozio di giocattoli che avevo di viaggio a compresso per Nintendo e col gioco e faceva allora che gioco poi e io ho Street Fighter 2 non posso vedere sto senza occhiali ma cui ascia grazie benvenuto che ha fatto ci ospita ci ospita grazie grazie perché anche quello di Hercules se era un iporci prossima domanda la prossima domanda è di Abone porcellone che ha chiesto? ha chiesto avete mai provato i giochi dell'illusion che giochi hai fatto dell'illusion scusami sono quelli tutti quanti tipo tipo che devi cazzo gestionare lì con le waifu allora te vi dico due tipo sexy bitch due artificial girl artificial girl e mi sono spaccata a merda perché dovevo finire al 100% sexy bitch 3 no io l'unico gioco con le waifu che ho provato che ho giocato è stato coi cazzo e il cazzo metter di due io non ci ho mai provato io non ci ho mai provato ma anche con Marco quel cazzo quel cazzo era bello no magari quel cazzo era bellissimo perché potrei importare le waifu create dagli altri utenti tipo c'era pira di xenoblade chronicles 2 e rasponi a tre mani pazzesco pazzesco comunque questa pira di xenoblade chronicles 2 l'ho vista solamente in un fatto perché dovevo sospettare a qualche parte uno che mi vende xenoblade perché lo voglio giocare allora intanto hai tirato una bella roba perché io tipo sul portatile di mio padre del lavoro che era un compact e ti parlo del 97-98 ci tenevo due giochi sopra fifa 97 e poi fifa 98 e la demo di edge of empire 1 che teneva la missione della campagna che la cominci c'era una mappa che cominciavi che tenevi due preti e da lì cominciavi la missione ecco invece nel lontano 2001 avevo un fisso che scorcavo a mio fratello e avevo pochi giochi avevo pass 4 3 4 avevo empire arts 2 che è il gioco della vita cazzo empire arts è spettacolare e nifo speed most wanted che è anche quello il gioco della vita il primo il primo però il primo most wanted perché se il padre con diablo 1 eh beh cazzo io sono stato allora allora ci siamo fatta per adesso invece poi venne introdotto effettivamente mi regalò il figlio di un creato di mia madre il gameboy color giallo con la caccia di pokemon oro marco io non ce l'ho più dato io non ce l'ho più non ce l'ho ancora il gameboy oro giallo bellissimo avevo quello io non so anche io quello senza senza carica batterie quindi ogni tipo ogni due ore mia madre deve andare a prendere un nuovo vestito a che parte tra l'altro non si vedrà mai c'era mio fratello che giocava a pokemon smeraldo sul pc e quindi ho costretto mia madre a comprarmi un gameboy che bello lo dobbiamo fare tantissimo marco l'ho comprato a romix questo qua perché il mio vecchio il gameboy color l'ho vendetta il mio fratello e la mia cucina quanto l'hai pagato? un fottiglio tipo 35 euro ah vabbè allora la prossima domanda è di una certa squishy cheddar si che ci chiede? quanto sono gay i videogiochi se voi siete gay vive gay ma io dalla scheda da uno a gay direi gay alla seconda dai i videogiochi sono molto gay secondo me per me per me la risposta è marco cercello marco cercello ci sta ma non lucas padoni no no allora vogliamo dire gay o effemminato cazzo matteo che culo c'ha quello l'edizione pikachu io io mi ricordo andavo sempre andavo di rado in un negozio di giocatori perché era fuori dal centro e aveva questo nintendo 64 edizione pikachu presente l'edizione speciale di pokemon colosseum no pokemon stadium per il nintendo 64 sì quella nintendo 64 blu ci lasciavo la baba ci lasciavo perché io avevo una ps1 volevo tantissimo nintendo 64 non ce l'avevo non ce l'ho mai avuto a buone caro noi ti abbiamo risposto però tu non ci hai cacciato i tuoi titoli dell'illusion infatti e poi continua squisicendo dicendo vi guardo da lontano e ci spamma pure perché ci vuole bene e siete belli anche se non vi vede in live ora e poi e poi e poi no replica dicendo ma poi che parlo in terza persona se non ricordo anch'io quindi double fuck quindi si autodatta che detta che è gay sì ciao squad ciao squad allora ecco la domanda che sarà la mia risposta per il cosa mi aspetta dal 2020 no t'ai dice abbiamo risposto alla tua domanda t'ai dice abbiamo più una risposta esatto sì perché Alessandro ci chiede cosa vi aspettate del progetto fra From Software e George Martin non c'erano le tre perché penso lo conoscevi tutti George Martin comunque George Martin è quello che ha scritto il trono di spade sì e i rumors che sono dietro a questo progetto che ormai è da un po' che si sa sono che saranno sarà un action rpg e vabbè From Software cazzo di aspetti no perché ci sa per molto tempo ci sa anche che dicevano vai ma sarà sicuramente uno strategico eh già comunque si pensa dicono che sarà un action rpg con sarà il degno erede dei dark souls quindi non sarà tipo Sekiro o tipo Bloodborne ma sarà proprio un dark souls differente magari ambientato a Westeros non si sa allora io ho soltanto un dubbio che bisogna poi magari verrò smentito o altro e neanche uno poi ma allora From Software sviluppa poche cose perché deve differenziarle per dare identità morenix ciao grazie 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 mille secondo me cioè io spero che non sia un combat system che abbiamo già visto quindi riciclato con soltanto una grafica diversa che sarebbe Game of Thrones allora il nostro dubbio è uguale perché il mio dubbio è che sia l'ambientazione una figata pazzesca la grafica migliorata e tutto quello che vuoi ma il gameplay vecchio gameplay vecchio non vorrei giocare un mod di dark souls 3 posso dirti la mia allora anche se è una mod di dark souls 3 ma a me direbbe comunque bene sì questo sì però perché io adoro il gameplay io ti dico io ti dico non mi può presentare lo stesso gameplay per la quarta quinta sesta volta un pochino del migliorato allora non sarebbe per la quarta perché quello che si sta dicendo quelli che dicono gli insider è anche il fatto che effettivamente però From Software si stia concentrando sulla sua prossima IP molti dicono e ci sono anche un paio di conferme che ci possa essere un grande ritorno di Armored Core che però la gente sarebbe un po' dimenticata di Armored Core che gioco era che era un gioco bello tosto e complesso anche un po' troppo di nicchia perché con il ritorno con il fatto che abbia popolato con Dark Souls la gente si è andata a rivedere un po' quello che hanno fatto prima e quindi è uscita tutta la saga dei The Kings che sono usciti in 8-9 capitoli che era l'antenato di Dark Souls in prima persona che era abbastanza ingiocabile Armored Core che aveva i capitoli su PS1 che erano abbastanza complicati da capire quindi vedremo comunque probabilmente innoveranno un po' gli gameplay hanno detto che con Degni Ray dei Dark Souls con le fatte che comunque hanno fatto Bloodborne che il gameplay si differenziava da quello dei Souls di quanto si differenzia il gameplay di Souls non di troppo ma si differenzia hanno fatto Sekiro invece che Sekiro è una cosa quasi nuovo sul counter attack questo si sullo schiva o para secondo me invece io ho paura che sia un gameplay vecchio vedremo vedremo siamo ancora agli inizi io ve lo dico è una forte azione questa non è un'azione di frontsoft questa è un'azione di marketing della Rambo Bandai comunque ecco conoscendo conoscendo lo sviluppo di videogiochi giapponese conoscendo quanto sono conservatore conoscendo quanto si parla nel culo secondo me usano una formula vecchia per prepararsi il culo con il mano alla fine Namco Bandai ha il vantaggio che dà abbastanza libertà a frontsoftware dipende a quale team lo danno perché dalla frontsoftware e paresi ci sono due team come Asquare Enix cioè quello che fa che rinnova e quelli che adattano la mia preoccupazione non è di Bandai esatto me l'ho scordato la mia preoccupazione non è da parte di Bandai la mia preoccupazione è da parte di From vabbè comunque sta crescendo quanto fu comunque sappiate che io ve lo porterò sicuro al 100% al day one magari è teletubbies the game quindi non so se si perde i teletubbies the game ah bello magari e invece ci tirano fuori in Darks lo streggo i personaggi di Kotek e gameplay di Dragon ma questo è pazzo che cazzo dice Luca Luca la posi con la bottiglia per favore da flippando col cervello allora ti togli quel palo un certo Alberto Clemente che va a fanculo che cazzo è ci chiede esclusiva Sony Microsoft e Nintendo che più vi aggradano allora con Nintendo io e Dado penso che convertiamo sulla stessa tutta la saga di Zelda allora o dire tu ti direi tutta la saga di Pokémon io ti dico tutta la saga di Zelda per ovvi motivi perché Dado c'hai un'escrescenza sul braccio però se ne devi scegliere uno tra tutti i Zelda da tanto lo so che scegli Breath of the Wild ah Link to the Past io se devo scegliere un'escrescenza ocarina 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 tutti quanti sono differenti ocarina per me probabilmente sono indeciso tra Smash e un gioco qualsiasi Pokémon cioè tra ma dobbiamo dire un'esclusiva di ogni roba si Sony ok io ancora do di quella Nintendo però ah già è vero vero ma se voglio variegare non voglio dire la stessa cosa io dico la saga di Fire Emblem io quelli devo ancora giocare mi forse è troppo complicato no qua in occidente molto di nicchio ma non è complicato oddio basta ha preso un po' più piede si ora sta prendendo piede parecchio ma prima di giocarmi il primo farebbero sotto giocare in giapponese che erano sul NES conta che prima prima di Smash prima di Brawl neanche voleva localizzarle in occidente da quello che ho letto mi sembra visto che sono usciti capitoli sul GBI Fire Emblem non in occidente non in occidente sono i primi capitoli che sono usciti Fire Emblem e Fire Emblem non so se mi ricordo male ma avevo letto un'intervista non mi ricordo neanche a chi che praticamente dicevano che i personaggi di Fire Emblem all'interno di Smash hanno piaciuto sicuramente tanto in occidente che hanno deciso di localizzare i giochi in occidente infatti il design dei personaggi io Fire Emblem lo conosciuto grazie a Brawl ma perché ci stanno Ike in Ultimate ce ne sono una marea in Ultimate è solamente Super Smash Ultimate è Fire Emblem e alcuni personaggi ci sono 80 personaggi ne sono 10 espo praticamente non hai giocato espo praticamente non hai giocato Fire Emblem perché Warriors è uno spin off è un musù è un musù che lo per smartphone non è niente Eros ha il gameplay però non ha la profondità ha linee grandi così il gameplay perché poi invece esclusiva a Sony esclusiva a Sony Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots Ratchet Ratchet and Clank Allora per ricordi di gioventù vi direi Spyro se no vi dico Bloodborne vi vado di Persona 5 tutta la vita esclusiva non esce anche vabbè uscire potrebbe diventare un asia su Nintendo però poi esclusiva Xbox io non ho mai giocato Xbox quindi neanche io non so per non sapere proprio cosa dire ti dico Halo perché non l'ho mai giocato e sono curioso e sono curioso io ne ho giocate poche per ora si opti tra quelle poche che ho giocato e non esclusiva Xbox però è Microsoft avrei voluto dire la Master Chief Collection ma è diretta a voi quindi vi dico la saga di Chaos of War che è veramente Chaos of War comunque ha definito il genere dello sparatutto in terza persona con copertura allora la prossima la prossima domanda la domanda è di Luca ci chiede se abbiamo saputo cioè se sapevamo che Steam ti dico già che è una stronzata perché hai letto male io neanche lo sapevo no ha letto male allora praticamente Luca ci chiede avete saputo la domanda qual è? ma ora Team C91 sei matto? allora Luca ci chiede avete saputo che Steam fa la concorrenza Stadia con la sua piattaforma di Steam video giochi stronzata no possiamo chiudere la live? allora è una cazzata con la sua informazione Steam sta facendo concorrenza non con una piattaforma di stream di cloud gaming come Stadia come quella di Xbox come quella di Sony sta facendo concorrenza con Steam Link cos'è Steam Link? tu hai il tuo PC tu hai il tuo PC hai i tuoi giochi sul tuo PC puoi stimbarli dove ti pare ma comunque tu li runni sul tuo PC non è che li runni su un server non li runni su un server è una cazzata è una cazzata ma anche perché c'è il cloud gaming su PC cloud gaming su PC ha senso solo come lo sta facendo Steam appunto tu hai il tuo PC acceso sei al cesso sei e giochi da telefono al supermercato sei a scopare giochi da telefono quello non è cloud gaming quello è streaming sì quello è streaming non è cloud gaming non è cloud gaming è quello che farà anche l'Xbox come dicevo inizio live con il suo project xcloud che è una cosa che uscirà Xbox tocca a vedere però no con solo cosa farò vuole fare non riesco a prendere più sul serio la situazione mi sono immaginato uno che sta giocando al PC poi si alza e va a che bene gioca a rocket con il telefono non lo collega tutto quanto al telefono e poi si scopa una ragazza sul divano mentre continua a giocare mentre scopa fa sì diamante allora devo comprarmi un Xperia e faccio tutto con la PS4 lo fanno anche col telefono normalmente taglie ma se non so perché è uno scopo quindi no no artico una vera domanda è perché mentre gioco dovrei scopare perché magari lei non è brava e te a noi scusami ma dove si firma non hai mai visto i porno dove ci sta quello che gioca e quello che è scopato scusami no no e viene scopata e viene scopata è sempre quello passivo che gioca Marco sì 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 quindi non ci sono altre domande aspetta provare provare a fresciare amici della chat dovremmo riflessiamo fate domande anche aspetta Luca ci chiede anche un'altra cosa e3 cosa aspettate tanto cosa pensate sarà una delusione io da queste tre non mi aspetto un cazzo io ho queste tre permeggiate una delusione no io l'unica cosa che mi aspetto da lettere sono Pokémon sono cioè almeno nuove notizie su Pokémon magari l'evoluzione degli Star allora ti dico subito che mi aspetto Code Vein sì e mi aspetto di vedere qualcosa magari annunciano qualcosa sul gioco di Martin non penso mai magari qualche rumore in più io non mi aspetto niente nianchio quindi se ci sarà qualcosa di nuovo sarà ben accolto sì io mi aspetto nemmeno Cyberpunk ma Cyberpunk per parlare di cosa che quello per vederlo dovremmo aspettare veramente un sacco di tempo l'unica cosa che mi aspetto qualche nuovo EP se ci sarà allora io non mi aspetto niente perché già il fatto che una major non si presenti vuol dire che è veramente un periodo stagnante questo tra una generazione e l'altra quindi se uscirà qualcosa a sorpresa di inaspettato che anche gli insider sanno io volevo dire una cosa Marco alle tre non hanno mai nella storia presentato qualcosa di Pokémon mai mai parlato di Pokémon hanno sempre avuto la loro finestra Iroh? comunque ragazzi sappiamo io stavo stavo dicendo secondo me a questo E3 ci saranno trailer di quello che si è già visto di nuovo per il terzo anno di fila sì più di quello secondo me non andranno tipo che ne so Skyrim The Elder Scrolls 6 Skyrim non l'hanno già detto hanno già detto ci saranno nuove informazioni a giugno ma nuove informazioni può anche dire nuovo trailer saranno solo due episodi che mi ha sminchiato quello che pensavo che ne ebbero fatti tre no io avevo capito che c'era tipo la data di uscita a settembre forse sto confondendo con qualcos'altro sì io dalle tre mi aspetto informazioni di DLC di Kingdom Hearts 3 bah ma sei magari un DLC di Sekiro se devi aspettare le tre per delle informazioni di genere vuol dire che è proprio fiacca ragazzi quest'anno quest'anno probabilmente sì sarà abbastanza e penso che questo sarà il primo anno dei unico che si riferanno le tre unico ragazzi scriveranno le tre no più che altro sai cosa è la cosa che è quello che lo scriveremo live da Los Angeles io queste tre ci volevo veramente andare ma quando poi ho saputo che Sony non si presentava non ho presi biglietti perché io ci sarei andato volentieri a vederlo ascolta se Sony avesse fatto una conferenza tipo quella di due anni fa io sei stato molto più incazzato di te adesso sicuramente ma vabbè allora se ci possono stare tutte quante avrei detto cazzo vado alle tre dove presentano le nuove console e minchia sì no ma il fatto che non facciano una conferenza delle tre vuol dire che non possono presentare le nuove console in questo momento vuol dire che non hanno un cazzo di nuovo da far vedere no in questo momento cioè se ti facevano una conferenza come quella del trailer del trailer scriptato di cos'era dell'ast of us 2 del mini trailer di game no scusa il gameplay di 40 minuti di spiderman e di nient'altro e mi sarebbe molto più incazzato di aver pagato biglietto secondo me secondo me allora quello sonia la fin fine sta facendo sta facendo queste conferenze molto di atmosfera allora ti cito di cosa di cosa di cosa di atmosfera ok alle tre pensavo se stai riferendo agli state of play scusa no a quella troiata scusa stiamo parlando delle brochure delle quelli sono i violanti dei negozi sono diventati beh io ti cito dei due che sono state abbastanza memorabili una come conferenza intera che penso essere una delle migliori conferenze sony negli ultimi 5-6 anni che è quella che è cominciata con l'orchestra quando hanno presentato God of War e un'altra che è soltanto perché poi hanno light perché hanno sparato un sacco di ove resident evil 7 e un'altra invece come conferenza che prestano soltanto il momento perché poi è stata una conferenza abbastanza dimenticabile quella dell'anno scorso dove hanno ricreato l'ambientazione del trailer della storia conferenza memorabile quella no momento sapete cosa è stata la partita che è stata dimenticabile serie libero perché se se lo stream ti rompi coglioni comunque ho capito però nessuno l'ha pensato ti facciamo quello che c'è nel c'è f***a vabbè si baciano se sei lì la gente che stava lì al di là le sbobome la parte più bella delle tre scorso è stato Megan Everett è stata la fine eh Megan Everett cos'è che era era una delle la tipa rossa della tipa rossa ragazzi lo chicco corro a chiccarle un attimo posso salutare una persona sì vai ha avuto michelle giliberto ciao michelle ciao michelle comunque marco ti pensiamo questo nome fuori sai chi è chi è è la community manager di warframe è vero è vero ce l'ho pure davanti di community manager pro warframe è vero ce l'ho pure davanti per il resto non so per il resto non mi aspetto veramente un cazzo no io ho detto al massimo qualche trailer di trailer che abbiamo già visto tipo si ho capito ma cosa del genere di iceborne di mostrante ma è difficile anche se tu usi se tu usi le tre per presentare la roba che hai già visto io mi taglio i coglioni come sono tagliato sarà una maggior parte la maggior parte ci sarà roba vecchia poi qualche cosina nuova la metteranno sicuramente è bello che non sia indietro sparami una roba che non mi aspetto che adesso xbox si gira il cazzo e ti caccia lo sei si sparami qualcosa che non mi aspetto però non farmi rompere coglioni come tipo l'anno scorso la conferenza nintendo mi sono trovato i coglioni in australia perché mi hanno fatto 50 minuti anche come sarebbe quella sensazione di sale che avevo in bocca mi hanno fatto 50 minuti di smash presentazione di ogni personaggio di ogni mappa tutti i personaggi no 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 non solo di ogni personaggio ogni mappa ogni support ogni oggetto porca puttana me ne sbatto il cazzo io degli oggetti un attimo e poi mi fai 10 minuti i titoli indie mi presentati in 2 minuti di 3 deus ex machina mi sembra interessanti demoni ex machina cos'era mi sembra interessanti me lo riducete in 2 minuti mentre mi fate 55 minuti di smash io vi sbatto il cazzo di faccia che era live scusate tanto per quanto per quanto il mio cuore per quanto il mio cuore appartiene nintendo succhiatemi il cazzo scusatemi tanto anche ti dice tecno 8 a casissimo mi chiede che non e poi mamma mia tecno 8 perché lo vuoi lo vuoi tecno 8 perché vuoi tecno 8 perché vuoi tecno 8 su tecno 7 c'è un paio di problemi importanti non mi sono proprio informato perché tecno 7 c'è un paio di problemi tosti tosti però c'è un paio di personaggi mi hanno riportato hanno riportato anche alle vecchie con allora io che un personaggio bellissimo da giocare quella di pc game fu interessante invece però c'è io però il personaggio che ho mainato sul 7 perché teneva il costume da medico della peste ragazzi mi sto pisciando addosso non vedo l'ora che finisca a stare per andare a pisciare 60 secondi alle non dragon ball budokai 4 dragon ball budokai tenkai 54 che è molto diverso in question ma non si è budokai 4 no esiste budokai 3 esiste budokai 3 ricordavo amici non ci sono più domande fammi riflessione domanda vai scusate ultimo giro di orologi ultima domanda no aspetta ce ne fanno altre acchetti cosa ne pensate l'imminente a questi di twist da parte di disney che lo renderà paghi 18 cosa cosa è finita non possiamo più trasmettere marco in live pensavo fosse una domanda seria ma chetti guarda pure io preferisco budokai a tenkai ci sai no vi chicco entrambi aspetta ragazzi no per me sono sullo stesso livello in realtà perché nel loro genere c'è una banca che non lo stiamo cagando contro altre domande adesso che ci sono fatto uscire di milmicrare 5 c'è vedere a mettersi al lavoro su dragon's dogma 2 ma io vorrei dragon's dogma online qui ma si ma poi dragon's dogma 2 allora sai quel è il problema che dragon's dogma l'hanno portato ovunque tutti quanti lo apprezzano ma vende pochissimo è vero è di nicchia cioè è di nicchia nelle vendite è veramente un peccato perché dragon's dogma ha delle meccaniche molto particolari ha delle meccaniche frustranti del cazzo perché tu devi farmi il fatto della via buia quindi con la torcia vabbè te lo voglio accettare jack siamo d'accordo fai delle fai delle quest talmente intricate e nascoste che non hanno senso di esistere se voglio accettare però poi d'altra parte d'altro canto mi metti che i mostri che sono un po' più grandi allora tu li puoi scalare tipo io uno dei boss che penso sia veramente memorabile ed è veramente una immagine rappresentativa di quello che è il gameplay di dragon's dogma è la chimera perché tu la chimera affronti effettivamente tra i mostri diversi la chimera affronti ammazzino 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 serpente sono cose diverse cambia il gameplay figo bello insomma ci sta bene ragazzi ragazzi auguriamo tutti buona pipì a dado 1 2 3 buona pipì a dado grazie amici vi ringrazio tantissimo per le domande ci avete fatto vi ringrazio tantissimo per la partecipazione se dirle mi casano sempre un sacco perché boh mi piace domani ragazzi dopo l'ora di pranzo farò il terzo tentativo mi pare di fare il boss finale sto avendo l'insufficienza renale quindi vi saluto ragazzi ci vediamo domani mi sono staccate le cuffie un secondo perché loro non mi sentono telegram youtube se ti sentiamo e instagram e anche buona serata e a domani ragazzi ragazzi buona serata ci vediamo domani ciao ciao bello ciao bello ciao